Con l'incognita sempre legata al coronavirus e alla temuta ripresa dei contagi in autunno, si pianifica il nuovo anno scolastico in Sicilia. L'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla ha firmato il decreto che prevede l'inizio delle elezioni giovedì 16 settembre. L'anno scolastico 2021-2022 si concluderà il 10 giugno. Nelle scuole i giorni di attività didattica saranno 207 oppure 206 se la festa del patrono locale ricade durante l'anno scolastico. Per le scuole dell'infanzia la conclusione è stata fissata al 30 giugno 2022. Le vacanze di Natale saranno da giovedì 23 dicembre a giovedì 6 gennaio, due settimane piene, quelle di Pasqua da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile. L'1 novembre, giorno di tutti i santi, ricade di lunedì, sempre di lunedì, la festa della liberazione, il 25 aprile, mentre salta la vacanza legata alla festa dei lavoratori, domenica 1 maggio. Rispetto al calendario scolastico previsto dalla Regione, le istituzioni scolastiche possono stabilire l'ulteriore sospensione delle elezioni per un massimo di tre giorni. La ricorrenza del 15 maggio, festa dell'autonomia siciliana, sarà dedicata a momenti di aggregazione per lo studio dello statuto della Regione siciliana e per l'approfondimento di tematiche connesse all'autonomia, alla storia e all'identità regionale. Queste dunque le indicazioni dell'assessorato regionale all'istruzione, mentre con un successivo provvedimento sarà modulato il calendario didattico delle attività formative in obbligo scolastico erogate dalle istituzioni formative accreditate. Il timore è che anche il prossimo anno scolastico possa essere condizionato dalla pandemia, soprattutto se si arriverà a settembre, senza aver raggiunto quella significativa percentuale di vaccinati che può arginare la diffusione del virus. Peraltro negli ultimi giorni è stato evidenziato come una consistente fetta di operatori scolastici non sia ancora vaccinata e siano pochissimi al momento gli studenti over 12 che hanno ricevuto la prima somministrazione. Il governo Musumeci sta già lavorando per garantire un anno sereno e di normalità a tutti gli studenti e al personale scolastico, ha dichiarato l'assessore Lagalla, annunciando che nei prossimi giorni sarà convocata la riunione per stabilire le modalità del rientro a scuola in presenza. Si attendono inoltre chiare indicazioni dal comitato tecnico-scientifico per garantire agli studenti un inizio di anno in piena sicurezza. Al momento la mascherina in classe e il distanziamento rimangono regole imprescindibili.